Ciao a tutti, ecco una nuova puntata di In Principio, un nuovo tassello che andrà a comporre quel percorso che stiamo percorrendo all'interno dell'apologetica cristiana, all'interno della patristica e quindi la filosofia cristiana antica. Ebbene, percorrendo, ecco dicevo, questo percorso, quindi andando spediti verso questa strada linearetta, all'improvviso però ecco che ci troviamo a dover frenare bruscamente. Se con Giustino, se con Taziano a suo modo, se con Clemente Origine soprattutto, quindi con la comunità alessandrina, abbiamo visto un cristianesimo che si è aperto al mondo. Si stava comunque lentamente per grado e per aprenda al mondo, accogliendo anche elementi del mondo pagano, ovviamente, rivedendoli e riadattandoli secondo il modello cristiano. Ebbene, ecco che all'improvviso la storia del cristianesimo trova a doversi frenare a seguito di un elemento, a seguito di un autore che andremo ad analizzare in questa puntata, che è appunto Tertulliano. Conosciuto come quinto settimo fiorente e Tertulliano, ma ecco, è il più noto come Tertulliano. Ebbene, questo personaggio, molto importante ovviamente per la storia del cristianesimo antico, si ritrova ad essere un elemento di distacco da quell'apertura che il cristianesimo aveva avviato nel suo, potremmo dire, primo secolo di vita. Primo vero secolo di vita, cioè il secondo secolo. Tertulliano, infatti, nascendo intorno tra il 155 e il 160, all'interno di una famiglia pagana, il padre era, si pensa, un centuriano per consolare. Tertulliano quindi cresce, così come ha fatto per esempio Taziano, cresce secondo il modello della padella greca, quindi la formazione greca, la conoscenza dei grandi autori greci, dei poeti, da Omero fino ad arrivare a Esiodo, per poi giungere quindi anche alla filosofia, per poi specializzarsi, questo ovviamente dicono gli studiosi, leggendo quelle che sono i suoi scritti, soprattutto quelli polemici, specializzandosi in studi di vera e propria retorica e di diritto. A un certo punto della sua vita, però, Tertulliano, ecco, attorno al 290-291 conosce il cristianesimo, così come i suoi predecessori, decide quindi di aprirsi completamente al cristianesimo, di abbandonare la cultura pagana e di abbracciare così il nuovo movimento. Iniziando quindi una fiorente produzione letteraria, che va dall'apologetica, quindi all'inizio della sua carriera cristiana, passando poi per la letteratura eresiologica, quindi la confutazione, le varie eresie, sia all'interno del cristianesimo, basti pensare per esempio al famosissimo Contro Marcione, opera preziosa per conoscere soprattutto l'autore Marcione, maestro cristiano del secondo secolo, coevo di Giustino, fino ad arrivare ovviamente al suo trattato contro i giudei, anche quello molto importante, per poi arrivare infine alle sue opere, potremmo dire, più polemiche, ma anche di carattere catechetico-dottrinale, di stile di vita, insomma, per cercare di indirizzare i cristiani a uno stile di vita degno, cioè degno per essere appunto definito appunto uno stile di vita cristiano, tucur. Quindi pensiamo per esempio al De Virgine Busvelandis, quindi perché le donne debbano portare il velo, pensiamo al trattato De Corona, c'è il trattato sulla Corona, il De Spettaculis, Aduxorem e così via. Quindi Tertulliano ha una, potremmo dire, una letteratura molto molto vasta che è giunta anche fino a noi quasi del tutto completa, che quindi ci permette, ci ha permesso di conoscere degnamente questo autore. Ovviamente è importante contestualizzare, come dico sempre, quindi conoscere il contesto storico di riferimento. Ci troviamo, quando ovviamente Tertulliano sta scrivendo tra il 190 d.C. e il 220 d.C., Tertulliano scrive soprattutto quando si trova nelle province settentrionali dell'Africa, soprattutto a Cartagine, e in questo caso è importante capire esattamente il luogo in cui Tertulliano si trova, perché Cartagine, così come Roma, così come Alessandria, detiene un primato importantissimo. È una delle tre, potremmo dire, capitali, all'epoca della denastia dei Severi, è una delle tre capitali dell'impero romano. Quindi se Roma detiene il primato di capitale della politica, quindi il centro politico, potremmo dire anche cultuale di Roma, Alessandria invece detiene la capitale della cultura. Abbiamo visto con Origine e con Clemente che Alessandria era un crocevia di dottrine, di filosofie, di culti misterici e non culti esoterici e quant'altro. Quindi un mondo molto aperto anche alle varie culture. E poi alla fine abbiamo Cartagine che invece ha un suo primato ed era la vera e propria capitale economica dell'impero. Cioè Cartagine è la provincia settentrionale dell'Africa romana, ebbene ai tempi della dinastia dei Severi, nei tempi in cui scrive Tertulliano, detiene un primato economico. Quindi ha un, potremmo dire, che vive un periodo estremamente fiorente, un periodo davvero florido, che Tertulliano ben descrive nelle sue opere e tra poco adesso lo vedremo, per capire, ripeto ancora una volta, il contesto, grazie al quale l'Africa, quindi la provincia settentrionale africana, in questo caso Cartagine, detiene questo primato, ripeto ancora una volta, grazie anche al fatto di avere una sorta di isolamento geografico. Cioè mentre Roma quindi sta cominciando anche a scontrarsi piano a piano con il popolo barbaro, e quindi ad avere problemi anche non solo politici, ma anche a livello di eserciti, quindi gestione dell'esercito, eccetera, ebbene l'Africa invece, appunto questo, grazie a questo isolamento geografico, può espandersi piano a piano, lentamente, ottenendo dei risultati, potremmo dire, insperati. Tant'è che appunto gli stessi romani non credevano che si potesse ottenere tanto da questa provincia, ma lo stesso Tertulliano, ecco, nei suoi scritti che tra poco andremo a vedere, dimostra anche lui una noncelata sorpresa. Nel suo trattato De Anima, scritto attorno al 210 d.C., Tertulliano descrive quindi quella che era la situazione florida del tempo, e scrive questo. E' certo in verità che lo stesso mondo è, come si può chiaramente vedere, ogni giorno più coltivato e più ricco di una volta. Tutti i luoghi sono ormai transitabili, sono conosciuti, sono pieni di traffici, tenute a sé i denti hanno cancellato dalla nostra memoria deserti un tempo famosi, i campi coltivati hanno circoscritto le foreste, gli animali domestici hanno allontanato le fiere, vengono seminati persino luoghi arenosi, si pianta persino sulla petraia, e vengono prosciugate le paludi e vi sono ormai tante città, quante non vi erano, abitanti un tempo. Quindi fa capire, Tertulliano, che Cattaggine, la provincia terzionale dell'Africa, sta vivendo un periodo economico estremamente rigoglioso. Quindi addirittura si parla di deserti che non esistono più, di strade che vengono costruite, di fiere allontanate dagli animali domestici che permettono quindi lo sfruttamento di tutte le risorse che è il terreno ad offrire, dei boschi, delle legnaie, eccetera, eccetera. Addirittura arriva, scrive Tertulliano, si pianta persino sulla petraia, quindi per far capire quanto è rigoglioso il periodo, quanto è rigoglioso il terreno e quanto è rigoglioso quindi il posto in cui, quindi, Tertulliano si trova. Non solo, nel suo trattato De Paglio, scritto più o meno attorno al 211, quindi nello stesso periodo in cui Tertulliano scrive il De Anima, Tertulliano, rivolgendosi ai maggiorenti di Cartagine, perché comunque Cartagine è una società molto stratificata, ben stratificata, quindi ben organizzata, ebbene scrive questo. Voi, o uomini di Cartagine, da sempre i primi in Africa, resi nobili dall'antichità della vostra città, toccati dalla fortuna in tempi a noi vicini, ebbene, con voi io mi rallegro perché questi tempi vi hanno favorito, sicché avete a vostra disposizione tempo libero e vi giova a criticare l'abito di altre persone. Questo voi lo dovete alla pace e alla nona, l'impero e il cielo vi guardano benignamente. Quindi tanto era il clima idilliaco, tanta era la sovrabbondanza anche economica, tanto era il tempo libero per molti anche dei maggiorenti di Cartagine, che perdevano tempo addirittura a criticare l'abito di altre persone. Cioè c'era talmente tanto tempo libero, scusate, talmente era Florida l'economia, che si perdeva tempo anche in queste cose. E Tertulliano dice, beati voi che potete fare questo, perché ecco, questo clima di letizia, questo clima di letizia economica, sta favorendo comunque tutti. E i cristiani come si inseriscono in tutto questo? Per meglio dire, in che modi i cristiani venivano percepiti all'interno anche di questa comunità? Ebbene, Tertulliano ce lo spiega nel suo primo trattato, che è l'Apologetico, scritto attorno al 195-196, ebbene in cui Tertulliano scrive, ovviamente riferendosi alla comunità cartaginese, van blaterando in giro, la città è circondata, cristiani ce n'è nelle campagne, nelle borgate e nelle isole. A loro rincresce, continua l'autore, come se si trattasse di una disgrazia, che gente di ogni sesso, di ogni età, di ogni classe, di ogni grado, passi al cristianesimo. Siamo arrivati ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutto il vostro impero. Le città, le isole, le fortificazioni, le amministrazioni municipali, le assemblee, le stesse caserme, le tribù, le curie, il palazzo imperiale, il senato e il foro. Vi abbiamo lasciato solo i templi. Contiamo pure le forze dei vostri contingenti militari e sull'esercito ci torneremo tra poco. In una sola provincia di cristiani ce n'è di più. Tertulliano descrive anche un periodo addirittura florido per i cristiani. I cristiani ce n'è ovunque, in ogni città. Addirittura, dice Tertulliano, siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza nella città. Noi occupiamo qualsiasi cosa. Caserme, tribù, le cure, il palazzo imperiale, il senato. Arriva addirittura a toccare il senato. Sebbene comunque molti sono gli autori odierni che affermano difficile che ai tempi di Tertulliano vi fossero cristiani nell'ordine senatorio. Ma non dimentichiamoci che stiamo parlando di un brano apologetico che va quindi a difendere estremamente il cristianesimo. E abbiamo visto con Taziano, abbiamo visto con Giustino come molte volte tendono a gonfiare molte volte i dati. Quindi a rendersi tronfi di fronte al loro uditorio, comunque ai loro lettori. E un altro brano che questa volta è molto posteriore, la scapula, scritta intorno al 212, perché Tertulliano sta scrivendo al Procons del Romano del Tempo un certo scapula e il linguaggio utilizzato da Tertulliano ecco fa capire anche che clima vi fosse fra cristiani e autorità e che forse i cristiani non erano questi pezzi di pane che effettivamente si vogliono descrivere o che la tradizione ci vuole descrivere. Vediamo insieme, leggiamo. Quindi brano della scapula. Libro secondo, versetto 10. Che poi noi ci comportiamo in conformità alla norma con cui Dio ci propone di imitare la sua pazienza priva di ogni violenza. E potete averne una prova più evidente dal fatto che, pur essendo una gran massa di gente e costituendo oramai la maggioranza di ogni città, noi viviamo, attenzione, sottolineiamolo questo, noi viviamo in silenzio e senza scombussolare l'ordine pubblico. Bada bene però, quindi rivolgendosi un'altra volta al Poconsole, Bada bene però, sopportando queste sofferenze, noi non intendiamo affatto venire allo scoperto, solo per dimostrare che non abbiamo paura di tutto ciò e che quindi ci presentiamo di nostra iniziativa per farci ammazzare. Arion Tonino, in Asia, aveva scatenato una caccia senza tregua contro i cristiani. Allora tutti i cristiani di quella regione si radunarono e si presentarono in gruppo davanti al tribunale. E se decidessimo di fare altrettanto anche qui in Africa, che farà di diecimila persone, di tanti uomini e donne, di gente di ogni sesso, di ogni età, di ogni condizione sociale che si presentassero le loro iniziative al tuo tribunale? Ci sarà davvero bisogno di spade e roghi a non finire. Quindi il Tulliano passa in un linguaggio più mite dicendo bene, la violenza non fa per noi. Noi, ok, siamo la maggioranza e tagliamo la maggioranza. Se pensiamo all'apologetico afferma vi lasciamo soltanto i tempi, tanto è la nostra concessione, tanto siamo forti, tanto siamo numerosi e alla fine cosa dice? Alla fine però dice attenzione però, quindi rivolgendosi al proconso, l'attenzione però che se ci disturbate, se disturbate il nostro quieto vivere, potrebbe accadere ciò che è accaduto all'altro proconsole, Arrantonino, non so se ti ricordi caro scapula, sto un pochino facendo le veci di Tertulliano, non so se ti ricordi caro scapula, Arrantonino, che cosa ha fatto in Asia? Ebbene, stava perseguitando i cristiani, non dimentichiamoci che la persecuzione dei cristiani era di carattere puramente locale, non c'era una legge che andasse contro i cristiani. Ripetiamo sempre questo concetto. Ebbene, dice, Arrantonino aveva fatto così in Asia e i cristiani sono presentati davanti al tribunale e cosa accadrebbe se noi cristiani d'Africa dovessimo presentarci addirittura tutti e 10.000? Come sempre gonfia molti numeri, difficile credere che fossero effettivamente 10.000 seguaci in Africa, ma prendiamo per buono il dato. Ebbene, cosa accadrebbe se ci presentassimo in 10.000? Cosa faresti tu? Ecco, in quel caso dovresti effettivamente munirti di molte spade e roghi. Quindi, Tertulliano presagisce anche un clima certamente non di concordia, ma quasi di guerriglia. Quindi, abbiamo non solo quell'immagine dei cristiani buoni, del porgi d'altra guaggia, ovviamente smentita le stesse parole di Tertulliano, ma voi pensate anche a quello che dice la tradizione. La tradizione afferma che a quel tempo i cristiani venivano perseguitati ferocemente, quindi i cristiani addirittura si nascondevano, non mostravano la faccia, addirittura non si predicavano a volte i cristiani per paura e le persecuzioni, e poi abbiamo uno come Tertulliano che addirittura arriva a minacciare un proconsole. Un proconsole dicendo vedi quello che ha fatto un tuo collega, lo stesso potrebbe accadere anche a te, una minaccia vera e propria, quindi potremmo dire un linguaggio di quello di Tertulliano che potremmo definire cautelativo, nel senso attenzione a come ti stai muovendo caro proconsole, perché potresti avere effettivamente delle ripercussioni molto gravi, quindi un linguaggio veramente duro, veramente forte, alla faccia del viviamo in silenzio e senza scombussolare l'ordine pubblico. Ricordiamoci queste parole, perché non solo sono importanti ora, ma saranno importanti anche a quello che analizzeremo tra poco e che fanno capire e fanno comprendere il rigorismo, il conservatorismo di Tertulliano, quindi quella frenata improvvisa nella storia del cristianesimo, perché Tertulliano si dimostra un profondo conservatore, perché Tertulliano è famoso per essere un rigorista a 360 gradi. Ebbene, Tertulliano, per esempio, nel suo trattato La Corona descrive quella che è la situazione dei cristiani all'interno dell'esercito romano. Un paradosso, ovviamente, al tempo. E Tertulliano lo sottolinea, lo certifica, non solo per il comandamento non uccidere, quindi di non provocare la morte altrui. sebbene lì vi siano ovviamente delle questioni da sottolineare da dover approfondire del fatto che il comandamento dicesse non arrecardano al tuo vicino, ma se devi uccidere per guerra o meno lo puoi fare, così esplicitare il Talmud, ma questa è un'altra questione. Ma era importante la questione anche idolatrica, perché i soldati sacrificavano l'imperatore, sacrificavano gli dèi per la questione della Pax Deorum, ma poi i soldati oltre ecco ad avere le statuette dell'area dei penati, quindi dei loro avi e quindi i cristiani all'interno dell'esercito subivano queste cose, cioè nel senso le osservavano, ne facevano parte ed era un problema fortissimo e Tertulliano lo percepiva come un problema, ebbene c'era un'altra questione che prende chi il nome è al titolo del testo la corona, cioè i soldati percepivano lo stipendium normalmente, insieme allo stipendium a volte percepivano un'integrazione, un donativum, ma lo percepivano soltanto se indossavano ecco in quel momento una corona, una corona che per Tertulliano e che per i cristiani quindi ovviamente era vista come un oggetto idolatico, quindi un oggetto da non poter indossare, portando, ecco Tertulliano lo descrivo ovviamente su Tattato la corona, portando scompiglio all'interno dell'esercito, eliminando quindi quello che doveva essere l'ordine all'interno nello stesso esercito romano alla faccia, ripeto anche una volta, del senza scombussolare l'ordine pubblico. Ma pensiamo anche al Trattato il De Spettaculis, cioè nel senso il Trattato sugli spettacoli. Ebbene, Tertulliano nel Trattato degli spettacoli vieta severamente ai cristiani di partecipare ai giochi, di partecipare alle feste, di partecipare quindi a tutte quelle attività pubbliche dove poteva esserci anche minimamente il sentore di idolatria. E in questo caso faceva apparire inevitabilmente i cristiani come dei cattivi cittadini. E abbiamo visto quindi in questo caso cosa significava, abbiamo visto l'introduzione all'apologetica cristiana ovviamente qualche puntata fa, cosa significava per i romani avere di fronte a sé dei cattivi cittadini. perché era importante per i romani essere cittadini attivi quindi alla vita attiva della città. E i cristiani in questo caso non partecipavano e quindi si presentavano come personaggi sgradevoli, come personaggi scomodi, come personaggi da detestare in questo caso. Molte volte si vede la questione dalla prospettiva dei cristiani ma bisogna anche vederla dalla prospettiva ecco in questo caso dei romani. Si pensi per esempio a quello che diceva a Taziano Taziano scriveva noi non siamo tenuti a seguire le vostre feste rispettate quantomeno il nostro modo di vedere. Era giusto comunque ecco questa prospettiva non è sbagliata ma all'interno dell'impero romano i romani che sapevano come il dividi ed impera poteva valere per gli avversari ma non poteva certamente valere all'interno all'interno era importante la concordia era importante l'unità nonostante anche diverse tradizioni perché comunque i romani non rispettosi bene il fatto che cittadini romani facessero i vestalori che quindi non partecipassero ai giochi non partecipassero alle festività non partecipassero quindi anche per esempio al al sacrificio a tributare per esempio l'imperatore agli dèi bene era un gesto comunque di grave offesa nei confronti dell'impero nei confronti dello stato e quindi questo atteggiamento ovviamente promulgato a Tertulliano in questo suo rigorismo forte era ovviamente un problema anche in questo caso la faccia del non vogliamo scombussolare all'ordine pubblico ma pensiamo per esempio anche se vogliamo parlare ancora di rigorismo di Tertulliano per arrivare poi al cuore del problema ebbene pensiamo al trattato dei virginibus velandis quindi perché le donne debbano portare il velo o il trattato all'uxorem quindi alla moglie la donna è vista come inferiore addirittura viene fatta come peccatrice come personaggio che deve sottostare agli ordini del marito e che ha come unico scopo essere una brava donna di casa e concepire sostanzialmente perché comunque la donna è strumento per seguire il dettamento biblico e crescete e moltiplicatevi quindi la donna vista come oggetto sessuale atto soltanto alla procreazione quindi anche la coppia in questo caso è vista sotto questo punto di vista ma la donna addirittura è considerata inferiore perché perché Tertulliano per esempio è trattato anche ad uxorem sottolinea come anche nella riproduzione stessa quindi nello stesso concepimento l'uomo ovviamente non vi sto a spiegare tutta quanta la questione ma addirittura l'uomo arriva a prodursi prima la donna invece è molto molto più lenta quindi vigeva addirittura questa convinzione che era convinzione anche greca ma Tertulliano ovviamente la centuplica ancora di più nei suoi trattati quindi anche in questo caso estremo estremo rigorismo anche quanto riguarda la figura della donna è difficile quindi immaginare per esempio la comunità alessandrina che accoglieva anche donne all'interno della comunità donne che venivano ammaestrate nel senso che a cui veniva insegnata la filosofia la conoscenza la veragnosi per Tertulliano la donna doveva stare quindi all'interno di una sfera puramente umile per esempio basti pensare all'ordine delle vedove che era ben visto ovviamente da Tertulliano ma che appunto le donne non avevano un compito importante sì certo da sfamare i poveri aiutare quindi gli indigenti aveva una sua utilità sociale ma comunque i settori ovviamente più importanti quindi la gerarchia più alta all'interno delle comunità cristiane era sempre appannaggio degli uomini ma il rigorismo di Tertulliano si mostra soprattutto quindi il suo profondo conservatorismo si mostra soprattutto nei confronti della cultura greca ma soprattutto della filosofia per Tertulliano la filosofia è un esercizio del pensiero del dubbio completamente inutile per Tertulliano tutto ciò che riguarda la filosofia non porta alla conoscenza di Dio anzi addirittura dice Tertulliano i grandi maestri filosofi cita per esempio Platone cita per esempio Aristotele i grandi maestri filosofi che in questo caso sono arrivati a riconoscere l'impossibilità di conoscere Dio ebbene questo li porta a una posizione inferiore rispetto a noi cristiani perché perché il più umile servo della comunità di Dio in questo caso anche il più ignorante va a superare il migliore dei maestri filosofi perché perché il più umile e il più ignorante della comunità di Dio riesce a conoscere Dio attraverso qualcosa attraverso la rivelazione quindi aprendosi alla rivelazione dopo vedremo questo concetto aprendosi alla rivelazione è addirittura il compito e ha il potere di far conoscere Dio agli altri quindi mentre il maestro filosofo non solo non conosce Dio ma non può farlo conoscere agli altri il più ignorante degli uomini in questo caso ovviamente cristiano non solo conosce Dio attraverso la rivelazione e l'apertura ma può farlo conoscere agli altri quindi si dimostra superiore in questo senso a questo doppio potere a questa doppia capacità a questa doppia peculiarità che anche il migliore dei maestri filosofi maestri filosofi che dice Tertulliano si sono talmente preoccupati di fondare le loro scuole o addirittura di lasciarsi circondare ecco dai loro stessi discepoli soltanto per farsi ammaliare o meglio per essere per essere apprezzati grazie alla loro arte oratoria ebbene dicevo quindi maestri filosofi sono soltanto produttori di vuote ciance e in questo caso quindi il loro esercizio del dubbio il loro voler sviluppare questa curiosità dice Tertulliano in realtà è una curiosità che non serve è completamente completamente inutile addirittura riduttiva perché perché il vero cristiano è colui che accetta la sua ignoranza ignoranza voluta per natura voluta da Dio il cristiano è ignorante il cristiano deve credere attraverso un principio non di razionalità e in questo caso ci stiamo allontanando dalla scuola alessandrina dove invece c'è un percorso conoscitivo logico razionale non dimentichiamoci il clemente alessandrino il protrettico e il pedagogo e il maestro quindi vari step dove la filosofia ovviamente era il primo step necessario per giungere ad agnosi perfetta ebbene tertuliano afferma non vi deve essere razionale ma è tutto quanto irrazionale io credo dice tertuliano in questa sua famosissima massima io credo proprio perché è assurdo la fede si basa non su principi logico razionali così come la filosofia il cristianesimo non è addirittura una filosofia per tertuliano ma si basa proprio sull'assurdo la rivelazione stessa non può essere conosciuta dal singolo cristiano non può essere compresa ma ecco il singolo cristiano vi si deve aprire volontariamente senza conoscere ma accettarla per principio e in questo caso la conoscenza gli arriverà da sé ovviamente la conoscenza di Dio cioè il sapere il conoscere che vi è effettivamente Dio poi vi sono altri concetti di conoscenza di Dio che non stiamo qui a vedere è importante però capire quello che è il rigorismo ancora una volta è il suo essere conservatore parlando ovviamente di tertuliano quindi credo perché è assurdo la mia fede si basa su concetti puramente irrazionali non devo conoscere non devo indagare non devo essere assolutamente curioso non devo far crescere quella che è la mia curiosità non devo far crescere quella che è la mia conoscenza devo accettare volontariamente quella che è la mia condizione quindi tertuliano si inserisce in quella sfera potremmo dire dottrinale emotiva che la chiesa medievale in questo caso farà abbracciare ai suoi ai suoi adepti ai suoi ai suoi credenti quindi una chiesa austera una chiesa molto chiusa una chiesa che non si ha probabilmente al mondo che non si vuole rinnovare che addirittura va a monopolizzare il linguaggio filosofico e la filosofia questo lo si vedrà ovviamente poi con la filosofia scolastica quindi alla fine ovviamente questo è tertuliano sostanzialmente tertuliano che poi abbandonerà quella che verrà riconosciuta successivamente come ortodossia ancora con tertuliano non stiamo parlando di ortodossia ricordiamocelo abbracciare il cristianesimo montanista quello di montano attorno al 211 dopo Cristo proprio per queste sue posizioni estremamente intransigenti per questa sua fede anche nell'arrivo nell'avvento del Cristo nel secondo avvento per poi fondare una sua scuola quella dei tertulianisti tertulianisti che poi secondo notizie che ci offrirà poi Agostino torneranno poi in seno all'ortodossia un'ortodossia che poi ed è in fine di Agostino è già presente già consolidata quindi era importante descrivere ripeto ancora una volta quello che era il rigorismo di tertuliano la sua profonda chiusura nel mondo ed è incredibile vedere paragonare quelli che erano i cristiani di Alessandria clemente origine e paragonarli con tertuliano due mondi completamente differenti un cristianesimo latino che si dimostra ecco in questo caso si un cristianesimo latino che si dimostra intransigente chiuso e soprattutto ecco che dava comunque adito ai romani in questo caso ai pagani di farsi effettivamente odiare e detestare in questo caso si vi sarebbero ecco altri elementi da analizzare di tertuliano della sua dottrina la dottrina della trinità la dottrina ecco della conoscenza effettivamente di dio tertuliano non disegnerà comunque quella che è la sua effettiva filosofia pur disegnando la filosofia ma questo è un paradosso di tutto il cristianesimo pur disegnando la filosofia ne utilizzerà comunque il linguaggio per esempio per la sua dottrina trinitaria utilizzerà i termini come persone sostanza quindi per coniare quel concetto di tre persone a una stessa sostanza concetto che poi ci accompagnerà fino ai giorni nostri sostanzialmente pur ripetando una volta disegnando la filosofia ovviamente sulla trinità è giusto ricordarlo farò poi una puntata a parte perché è una ha una sua evoluzione davvero interessante che va analizzata punto per punto autore per autore quindi diciamo che in soldoni ecco tertulliano si presenta così era importante ripeto anche una volta non descrivere tutte le sue opere non descrivere quella che ha la sua dottrina ma soprattutto descrivere quello che è il suo carattere e il suo carattere è quello che era secondo lui il cristianesimo che si doveva presentare al mondo cioè paradossalmente un cristianesimo che si presenta al mondo non presentandosi ma quindi chiudendosi al riccio un cristianesimo potremmo dire estremamente autoreferenziale quindi è molto diverso dal cristianesimo che abbiamo visto fino ad adesso un cristianesimo invece quindi aperto alla conoscenza aperto alla filosofia aperto quindi ai concetti logico e razionali della dialettica dell'oratorio della retorica e così via bene per tertulliano invece tutto questo non esisteva il credente era credente perché si fondava il suo credo in una fede nell'irrazionale era un aprirsi alla divinità senza porsi tante domande sostanzialmente che il succo è questo quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui spero di essere stato abbastanza esaustivo ovviamente toccando ripeto ancora una volta i punti generali di tertulliano vi ricordo che se volete seguirmi potete farlo sia su facebook nella mia pagina autoriale esposito francesco scrittore oppure sul mio canale youtube se volete soltanto seguire i video che il mio canale youtube francesco esposito e infine vi ricordo anche il mio ultimo libro in uscita prima del cristianesimo della uno editori e tanto per informarvi vi voglio ecco anche informare del fatto che entro la fine dell'anno ritorneranno anche le dirette sulla mia pagina facebook quindi se volete seguirmi e partecipare insieme a me a queste dirette sarà per me un grosso piacere quindi noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata che tratterà di Eusebio di Cesarea puntata molto interessante che vedrà anche quindi l'aspetto politico del cristianesimo e il concetto di storia all'interno del cristianesimo ma poi lo vedremo alla prossima puntata e quindi noi ci diamo appuntamento alla prossima volta grazie per avermi seguito e ciao a tutti grazie